Ciao Isabella, bentrovata, benvenuta, come stai? Grazie, ciao Giorgio, finalmente dopo tanto tempo. Dopo una vita, sì sì. Grazie dell'invito. Figurati, è assolutamente un piacere. Senti Isabella, tu sei una fotografa di lunga esperienza, ti sei occupata di tematiche sociali di diverso tipo, tra cui in modo particolare dell'immigrazione. Infatti l'ultima volta ci siamo visti a Lampedusa durante gli sbarchi. Vado subito al punto. La fotografia che hai deciso di condividere con noi, che attinenza ha col presente e soprattutto quale storia c'è dietro? Allora, la fotografia che ho deciso di condividere con voi è la fotografia di una finestra, di una finestra bosniaca fatta nel 1995-96 a Mostar. Ero lì come tanti fotografi, soprattutto italiani, che hanno coperto il conflitto in ex Jugoslavia e nello specifico io avevo seguito molto la cittadina di Mostar. Proprio perché quando arrivai in ex Jugoslavia, arrivando con la nave da Spalato così in macchina per andare verso Sarajevo, passando attraverso Mostar, la visione della città completamente demolita, anzi non solo demolita, ma era quasi mangiata, quasi fosse scarnificata nelle mura della città. Ci fu un conflitto fortissimo oltre a quello con i serbi a Sarajevo, ma a Mostar fu un conflitto terribile all'interno della città proprio tra musulmani e bosniaci. Dunque ero lì e fu un lavoro dedicato a dei progetti umanitari, nello specifico della cooperazione italiana, che cercava di rimettere insieme, di ricucire le due parti in lotta, le due parti in conflitto nella città attraverso le donne e quindi documentare tutto questo lavoro che loro facevano attraverso le famiglie principalmente e soprattutto attraverso le donne, perché era rivolto molto alle donne proprio perché sono loro quelle che le più indicate, proprio ripucire i tessuti familiari divisi. Quindi in questo peregrinaggio che facevo io quotidianamente nella città mi sono imbattuta appunto in questa immagine e così quando mi hai chiesto quale fosse un'immagine che poteva essere pertinente ho pensato a questa. Perché? Perché è l'immagine di un bambino che è dietro una finestra, ma è dietro una finestra che è senza vetri, è una finestra con un telo e quindi questo ad esempio c'è una differenza chiaramente con quello che è il tempo nostro di oggi, siamo noi reclusi nelle case e siamo dietro le finestre, abbiamo questa visione ormai limitata dai nostri vetri, però noi ad esempio i vetri ce li abbiamo, quindi la differenza in realtà con quello che è davvero un territorio di vera guerra. E poi l'ho scelta anche proprio per questo discorso della guerra, nel senso che si spendono moltissime parole in questo momento, che siamo in guerra, che siamo in guerra contro il virus, che siamo in prima linea, diciamo che si spendono molte parole legate a questa situazione, ma ritengo che senz'altro i medici lo possono dire di essere in guerra, adesso fortunatamente si sta calando il disastro, ma sicuramente loro lo possono dire. Per quello che riguarda noi siamo nelle case, ma siamo nelle case e non siamo in guerra, insomma siamo in una situazione difficile senz'altro per tanti, però indubbiamente non si può parlare di guerra. Quindi perché dico questo? Perché credo che per me le parole sono importanti, soprattutto a livello mediatico, e quindi credo sia giusto misurare le parole per quello che è davvero la realtà, credo che dovrebbe essere davvero un principio vero dell'informazione in generale. e questa fotografia anche non solo, c'è questa finestra appunto in assenza di vetri, con un telo rimediato, ma attorno a questa finestra sulla parete ci sono dei segni, che adesso non so se nelle fotografie si capiscono, però sono dei segni di granata, esatto, di spari di segni di granata. Ricordo anche che in questi buchi che c'erano praticamente su tutta la superficie delle case di Mostar, addirittura c'erano gli uccellini che avevano fatto, in alcuni avevano fatto i nidi. Ed è così, in ogni territorio di guerra c'è sempre una vita che in realtà si riprende poi di spazi. Insomma anche qui in questa situazione di virus dove ci sono tante persone decedute, però appunto c'è anche poi degli spazi che ci si riprende di vita, no? Insomma c'è sempre un bilanciamento delle cose. Questo è un po' il senso. È una storia molto interessante, poi soprattutto questa bambina, questo bambino che si affaccia in questo telone poi bucato, mi sembra come un po' si riferisca al fatto che riportato alla nostra situazione, no? Ci affacciamo per dire quando è che possiamo poi riprendere un po' la vita normale. Molto bello e molto interessante. Senti, siamo un po' sul finire del, vedi, gli otto minuti passano velocemente. Un'altra domanda che vorrei farti è come stai trascorrendo questa quarantena, stai portando avanti dei progetti? Allora, beh, come tutti, come tanti fotografi, chiaramente è difficile stare in casa, si deve, ma insomma è difficile stare in casa, un po' si esce, si documenta un po' quello che succede in queste strade vuote, no? In questo silenzio. Poi però appunto sto cercando in realtà di focalizzarmi su questa questione dei medici deceduti, nel senso che sto cercando di realizzare un lavoro di immagine su questa cosa e sto piano piano contattando le famiglie e fotografare appunto le famiglie con un camice vuoto proprio per dare l'idea di questa assenza, perché penso che finita tutta questa storia ci si diventerà un po', no? Dei medici di quanto hanno lavorato e che quindi dare, cioè che rimanga un segno di questa cosa e quindi questo è un po' il lavoro sul quale mi sto concentrando adesso. Beh, interessante insomma, anche per dare una continuità poi al loro ruolo, no? Esatto. Perché sappiamo che in tempi diversi a volte ce ne dimentichiamo, insomma. Sì, si spendono grandi parole in questo momento, no? Eroi, eccetera, poi però chissà se dopo tutto ciò se in realtà ce ne si ricorderà davvero, no? E così tutto il sistema sanitario in realtà, no? Che sarà sicuramente da rivedere nel suo complesso, soprattutto in Lombardia direi. Certo. Dove in questo momento mi trovo. Bene Isabella, è stata una chiacchierata molto interessante, ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai concesso e speriamo presto di poter parlare di altre tue immagini, del lavoro che stai facendo, magari quando avrai terminato appunto questo progetto che stai portando avanti. Va bene, grazie Giorgio e buon lavoro a te. Grazie, ciao Isabella. Ciao, ciao.